Io la vendo sta discoteca, la vendo, ostia se la vendo, magari c'è messo una levamento di cunili, ma la vendo. Sono estremamente soddisfatto che sia stata approvata questa proposta di legge perché penso che valorizzare le nostre tradizioni e le nostre radici sia una cosa molto importante. La legge prevede di base due articolazioni che sono la conservazione di tutti i materiali, audiovisivi, testi che riguardano il nostro dialetto e soprattutto la diffusione e il sostegno alla promozione di questi dialetti che riguardano un pochino anche le compagnie teatrali, i poeti dialettali, gli scrittori. Insomma penso che sia un'ottima legge e soprattutto per la preservazione e la conservazione delle nostre radici. Signori, camera 22. Ah, siamo altri tipi! È super! Abbiamo approvato questa legge perché riteniamo questa legge molto importante. L'Italia è il paese con il maggior numero di dialetti al mondo e le marche sono ricchissime di dialetti, da nord a sud, dalla costa all'entroterra. A volte basta qualche chilometro di distanza per trovare dialetti completamente diversi. E questa legge ha come scopo di tutelare i dialetti marchigiani, di valorizzarli e di fare in modo che non vengano dispersi perché i dialetti fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, della nostra tradizione e attraverso il coinvolgimento di un comitato tecnico e anche attraverso una serie di iniziative anche nelle scuole perché i giovani, i ragazzi, i bambini devono sapere che il dialetto fa parte della nostra cultura e anche della nostra identità. Questa legge vuole in qualche modo valorizzare tutto questo patrimonio dando la possibilità a coloro che sono autori di testi di poter diventare sempre di più protagonisti anche attraverso una sezione dedicata nella biblioteca dell'Assemblea Legislativa delle Marche che sarà appunto dedicata ai dialetti all'interno della quale preservare tutto il patrimonio prodotto anche patrimonio passato e consultabile anche online. Ecco, credo che con la legge, con un programma che verrà organizzato tutte queste iniziative avranno il sostegno della Regione Marche per fare in modo che questa parte della nostra cultura, della nostra tradizione, della nostra identità non venga dispersa a partire dal coinvolgimento dei ragazzi e dei giovani. I due pepini, i arlatri, da 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 da, smaginavano le tre del loro. Ma come si fa? Dimmi le tessere ragioni, i menari, guarda te come ha nardotto l'Italia mia.